Il dodge è un diritto del giocatore, come anche piccare quello che voglio è un mio diritto. Ma è un mio dovere non intare, quello che ovviamente non ho fatto. Non si chiama leccare il culo, si chiama essere delle persone adulte e non dei bimbi piagnini. Ecco come si chiama. No, non gioco più a Genshin. Cosa costa luna? Ah, Kindred. Quindi mi hai già marchiato. Chissà se la mia W elimina il laser di Velkoz. Ma era per trollare quello blazer. Perché il pick della vendetta sarebbe stato Nunu e tiravo dritto mid. Che vendetta è giocare bene? Se dovevo vendicarmi, avrei tirato dritto. No, ma non dovrebbe essere... Allora... Tanto devo solo farmà. That's a big pair, Gwen. Of sister, I mean. Lel. Nanunu mid si giocava una volta. Adesso non penso sia ancora forte. Ehi, oh. Ah, ok. Sei... Sei quello... Sei come me. Quindi. Oh, Charlie, no. Che rune giochi? Conqueror? Bonplate, mi pare. Non ho bisogno di guardare. Ehm... Oddio, cos'altro? Non mi ricordo. Snip, snip, snip. Mi sta letteralmente uccendo solamente i autoattacchi. Vabbè, un bel flash. Ho fatto bene a prendere il TP, comunque. Ho fatto bene a prendere il TP. Ma mi sa che ora me ne vado. Prendo... Questo è una pozza. E non credo di doverti pare. Forse sì. No, tanto lui si è la fritta. Questa cosa è stupida. Non dovrebbe farla, perché io avrei callato. Mi sa un recall gratis, praticamente. Build it ancora? No, 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 no. Faccio la... Faccio il classico... I classichi. I classichi due oggetti e basta. Tanto io so benissimo che... Al primo item posso fare qualcosina e al secondo spike-o. Io so questo. Dov'è anche... Che figata vedere la spell che trapassa... Che mi trapassa. Ehi là! Non cagare il cazzo. Ecco l'Irelia che inizia. Fine. Ma Dio! Sto freerando un sacco di Minion. Sto freerando un botto di Minion. Va bene. No, la pozza. Ma non è ancora capito che non funziona. Oh, devo chiamare il comune. Dove ricordarmelo. Per quanto mi chaserà? Fino all'infinito e oltre. Va bene. Va bene, Kindred Flash. Lui è una più umana. La V ti rende non hittabile. La V mi rende completamente invulnerabile a qualunque cosa mi tirano mentre io sono dentro e loro sono fuori. Ebbò! Ebbò! Bravo, Velcro. Sei poco forte. Ma, me ne devo andare. Mmm! Se entrono dentro il cerchio possono colpirmi, sì. Se entrano dentro. Altrimenti... No. Sì, è venuto a Minion. Bastava una cupa per uccidermi. Grazie, Gekko. Questa Irelia sarà un problema. Questa Irelia sarà un problema. Sarà un bel problema. Rocket Belt. No, la... La... Come cazzo si chiama? Rift Maker è molto più forte perché ti dà spellbump. Ho cliccato al ritardo. Sono praticamente morto per fare questo. Tanto il drago già è andato. Fammi sforbiciare per bene. Snip, snip, snip! Non è stato molto uorto. In realtà, no. Non pensavo di prendere tutti quei danni. C'è Kindred. C'è Kindred. Vabbè. Non posso perdere questo. Non lo so. Ah! Brrrr! La mitraglietta! La mitraglietta! Non ho mana, se no andavo ad attaccare pure lui. Merita un buff? No. Secondo me è abbastanza forte. Secondo me non merita nessun buff. Out attack, out attack, out attacco, out attacco. Tutto out attacco. Sabi. Eh, il mana... Sì, se lo mangia. Se lo mangia, ma... Se sei bravo a... Se sei bravo a gestirtelo... Non serve mettere la roba di mano. Minchia, non ho farm, però. C'è proprio zero. E, Karen, gentilmente te ne vai che c'hai due HP in croce. No, hai voluto a tutti i costi morire. E dare la kill a Velk. Va bene. La muramana è bad. Ma in realtà non devi farla a D. Però forse come terzo item ci può stare. Dopo il Nashor. Ma in realtà io non gioco blint perché io sono un mid laner, eh. Brava. Sembra che dica class dismissed. Uccidete l'Irelia! Ho dimenticato una cosa importante. Ovvero il fatto che lui ha il barrier. Stavo per intare. Mi sono completamente scordato che aveva il barrier. Che aveva il barrier. Che aveva il barrier. Ne devo andare. No, me ne devo andare. Non posso rischiare. Tanto c'ho il TP. Cavolo, però non è male sto tizio a mirare. Non è male sto tizio a mirare. Ok. Stiamo continuando. No, c'è Velkos qua dietro. Ma se io... Uffa, noioso sto Kindred. Oh no, via mate, via mate, che ci muoiamo. Sei morto. Addio. Mi spiace, ma non mi voglio succidare. Snip, snip. Qua abbiamo un po' trollato. Per quanto non capisco perché... Perché Velkos invece di andarsene via di qua torna in lane e ha fatto sto giro da rimasto. Io volevo andare a prenderlo da qua. Ho pure flashato. Ho pure flashato. Rimando, rimando, rimando... Ho... Ho! Cheential! Bravo! Ho! Ho! Ha! Bravo, bravo. Eh, non faccio abbastanza danno ancora con gli autoattacchi. Che orgasmi fa? Ma Kinder dà letteralmente un assist e basta. Questa cosa è ottima. Io ho bisogno di mille gold adesso. Non si builda prima il Nashor del mitico? Oddio, non lo so. Non ti saprei dire, perché il mitico è un bello, bello, bello spikerelo. Non funziona il laserone. Che frustrante però, mamma mia. Sta cosa la nerferanno. Sta cosa la nerferanno. La V non può costare così poco. Eh, beh, però ha un cooldown bello. Ha il cooldown della V doppia di Zed. Letteralmente è quello. A livello 1. E io ho 0 cooldown. Perché la mia build non provate cooldown. Cosa, counter la V? Entrarci dentro. Se ci entri dentro... Counter. Ahia. Testiamo i limiti, ragazzi No, ma sei troia Vabbè, fa niente Comunque i gold per l'oggetto ce l'ho E vabbè Never mind Siamo calvi Può capitare, può succedere Può capi succedere Peccato che la mia torre è scoppiata Questa cosa Non è bene Allora, adesso Ho kill potential su Un po' a tutti Appena chiudo il Nashor sarò una bestia Two pieces Vabbè, questa è già morte, non lo sa Che belle le forbicine Oh, mi sto appassionando Sto campione Mi faceva cagare su PBE Perché non sapevo giocarla, ma No, 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 non possiamo andare su quello Mi sto appassionando Ma vaffanculo È la terza volta che vanno sto campo Vite che clira la giungla Ma a clirarla potrà pure clirarla Ma Il discorso è Come i ganchi? Com'è che ganchi? Boh La risposta è semplice Non ganchi Non riesco a capire perché dovrebbe essere meno giocare la top che mid Perché top ha i matchup melee E sono quelli che lei vuole Però Mid sai più safe Puoi scalare free Secondo me Maledetto Vabbè fa niente Dovevo tenermi la W E l'ho sprecata Colpa mia Se l'avessi tenuta Non mi avrebbe sbalzato via Con la Con la E Mid ha più counter Assolutamente no È il contrario E che counter deve avere mid? Sono tutti mage Lei mage Se li mangia Hai appena visto Devi essere bravo a farmare Con i melee però Cioè devi essere bravo a farmare con i ranged Contro i melee Eh vabbè Con i melee contro i ranged We know your name We have always known Snip 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 Set la counter Alquanto Alquanto Conqueror non la giochi Col Conqueror Credo che sia la migliore Per lei Alla fine È un campione Basato sugli autoattacchi E il Conqueror La No spero Non cura più il Conqueror Sto dicendo cazzate Il Conqueror Le aumenta i danni Se non ci fosse quella torre Proverai a ucciderlo Ma Minchè c'è quella torre Non posso Sembra Viego Beh Fanno parte più o meno Della stessa cosa Peccato Eh quella E È abbastanza noiosa Ho completamente missato La R Spero che la Q Non applichi il PTA Ma in realtà Non credo Non dice che applica Gli effetti UNIT Quindi non dovrebbe Ma il PTA Non penso È molto forte Ma io c'ho il TIP Vado bot Ma che bella come cammina Io adoro come cammina L'adoro come cammina Amo la follia Il modo in cui cammina Guardala Guardala Saluta Ehi là Che ci fai qui Dai Viniamo addosso L'ho devastato Devastato Se non fosse stata Per la sua R Sarebbe morto Con il Dark Harvest No Sì Quindi è una femmina Sì My bad Stavolta ho fatto Un sogno di merda C'era il padre Di un mio amico Che era Malato di covid E mi dava la colpa Che ero stato io A passarglielo E mi voleva cacciare di casa È bruttissimo È stato veramente orribile Come sogno Mi diceva È colpa tua Vai via Ma io E io No non è vero Sono negativo E lui Vai via È stato orribile Sono quasi Al mio power speak Dopo che avrò messo Il Nashor Loro potranno dire Addio Alle loro Chiappettine Già una suicidata Ok Ok daddy Vai con la punta Aspetta Aspetta Devo farlo io Cretina Obiettivi in due secondi Yumi Eh sì Yumi Gwen e Vayne Signori E nessuno se ne accorge Nice Ho detto Ho detto Ma senti Io una lice Per me la faccio Non l'ho ancora mai fatta C'è il mio 2000 HP Che c'è? Che vuoi? Che mi pinghi C'è ancora Tornamento Darchillo Ah Sa Torre Mid È ancora in piedi Certo che sono Nel ranked Eh esatto Phantom Pain In realtà dovevo farla In quel modo Ma anche se la fai Se la fai Che lui è dentro Ti dà resistenza Quindi è buono In ogni caso Eh che palle Sto boomerang Better duck Mi sento che loro risolvono Non importa La mia Sì 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 Full beat Ero in mezzo a tutto il fight A tankare il mondo Full beat I rally era lì che mi faceva E non mi faceva danno